Abete, legnami e infissi, il massimo per qualità e convenienza, presenta gli highlights del campionato d'elite ASM. Amici di Fanner, buonasera e benvenuti all'Urbe Tevere per la tredicesima giornata del campionato d'elite. Si incontrano questa sera la squadra di casa, il Borgo Rosso in maglia scura e la Roma Soccer Club invece in maglia bianca. Capisce tutto Serrao che prova a involarsi sull'alto di sinistra, lo fa molto bene, può andare alle cross. Una serie di finte, cross e basso, arriva Egidi sul primo palo e alla prima occasione del match il Borgo Rosso passa avanti 1-0. Anzi dovrebbe essere stato Damian, autore della rete, dell'1-0. Lovison con i piedi, il pallone, dopo il tocco diventa un assist per Serrao. Uscita a vuoto del portiere della Roma Soccer Club e poi deve solo depositare in porta la rete del 2-0 per il Borgo Rosso. Daniele Serrao. Calcio d'angolo, battuto corto, arriva il cross, l'incornata di testa e la traversa. Grandissima occasione, continua l'attacco. C'è ancora un calcio d'angolo per la Roma Soccer Club. Altro corner, allora per la Roma Soccer Club. Sul primo palo ancora il colpo di testa. Di Giuffrida, palla sul fondo. Ma un'altra chance per gli ospiti. Altro errore in uscita della Roma Soccer Club. Damian viene contro i Gidi che va al tiro. Esce il strano difensore che gli chiude lo specchio della porta. Pallone dentro. Colpo di testa poi i Gidi. Prova la girata. C'è il tocco col braccio e arriva il duplice fischio del direttore di gara. La prima frazione finisce. 2-0 per il Borgo Rosso. Punizione battuta dentro l'area di rigore. Rispinta di pugno. Poi la palla resta al limite dell'area. Gidi calcia. Blocca il portiere della Roma Soccer Club. Palla lunga. Per Giuffrida che prova a calciare. La palla scende. Ma non abbastanza. Scivolata. Non prende il pallone. Non prende neanche Tafani che sale palla al piede. Gnagni. Si inserisce proprio Tafani. Rimpallo che arriva dalle parti di Marchetti. C'è l'intervento in scivolata. Ma Marchetti ha messo dentro la rete. Il 3-0 per il Borgo Rosso. Che chiude qui il match. Anche in bello stile. Elegante. Palla poi per Ramos. Quando arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Borgo Rosso. Vince questa partita contro la Roma Soccer Club. Con il risultato di 3-0.